Anche il comune di Serrara Fontana potrà pulire il porto beneficiare del Sibin, insomma dal vostro punto di vista quanto vi rende orgogliosi questo regalo? Beh sicuramente è un grandissimo piacere avere questo dono che coniuga un po' la bellezza del nostro posto con l'attenzione per l'ambiente perché è un simbolo della nostra politica, vogliamo a tutti i costi puntare molto su questo aspetto e quindi non ci resta che ringraziare la Wild Side che ospite di Serrara Fontana come del comune di Ischia ma direi dell'isola di Ischia nel complesso ha voluto anche lei come casa di produzione porre l'accento su uno degli aspetti che sta più a cuore a noi dell'isola di Ischia.